Come anticipato dalle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il presidente della regione molise, Francesco Roberti, ha proceduto a revocare alcune deleghe agli assessori, avvocandole per il momento alla propria persona. Va detto che l'operazione non ha alcun carattere di bocciatura per gli assessori interessati, ma si tratta di una operazione propedeutica alla successiva redistribuzione delle deleghe ai consiglieri regionali. Come specifica in una nota la consigliera Stefania Passarelli, per la vicepresidente del Consiglio regionale, che risponde alle critiche sollevate dalle gambiente WWF, si tratta di un'operazione volta a potenziare le materie in questione, dedicando ai rispettivi settori più tempo maggiori risorse professionali e competenze. Nello specifico, gli assessori interessati dall'intervento di Roberti sono Salvatore Micone, che perde le deleghe allo sport, turismo e cultura, Andrea Di Lucente, al quale viene revocata la delega all'ambiente e quella alle risorse umane, Gianluca Cefaratti, che perde la delega alle politiche sociali, Michele Marone, al quale viene revocata la delega al sistema idrico integrato. Con molta probabilità, all'inizio della prossima settimana, il presidente della regione, in questi giorni a Strasburgo, in rappresentanza della conferenza delle regioni, procederà con l'assegnazione ai singoli consiglieri delle deleghe revocate. Dall'operazione resta fuori l'assessore Michele Iorio, al quale sono confermate le deleghe a suo tempo assegnate riforme istituzionali, coordinamento fondi europei, PNRR e politiche di coesione, rapporti con i ministeri per l'attuazione del piano di rientro sanitario della regione Molise.